Il presidente statunitense Obama si assume la piena responsabilità per la morte di Giovanni Loporto e di Warren Weinstein, i due ostaggi uccisi in un raid aereo in Pakistan nel gennaio scorso. In una conferenza stampa, il presidente Obama ha detto di aver espresso le condoglianze alle famiglie dei due ostaggi, tragicamente uccisi in un'operazione antiterrorismo statunitense. Warren e Giovanni, ha aggiunto, erano operatori umanitari in Pakistan e lavoravano per migliorare la vita della popolazione pakistana. Loporto, palermitano, era stato rapito da Al-Qaeda nel gennaio 2012, lavorava per la ONG tedesca Welt Hunger Hilf.